Sinceramente sono stanco di sentire le favole che ci vengono raccontate circa i voli spaziali suborbitali dall'aeroporto di Grottaglie. Prendo spunto da un articolo che è stato pubblicato dal quotidiano, per carità massimo rispetto verso i giornalisti del quotidiano, quello che io contesto è ovviamente le favole che ci vengono raccontate dai rappresentanti di Enac che prendono spunto appunto da un volo suborbitale che è partito ed è tornato dal New Mexico. Stiamo parlando di voli suborbitali dal New Mexico, non dall'arlotta di Grottaglie. La verità è una sola che si vuole far ubriacare i tarantini con queste favole per nascondere, per calbare la loro legittima e sacrosanta rabbia relativa appunto al fatto che noi non abbiamo, ci vengono negati i voli passeggeri appunto da Grottaglie. Persino l'aeroporto Ginolisa di Foggia ha avuto dopo anni di paralisi dei voli per Milano, noi nulla. E allora che cosa facciamo? Ubriachiamo, facciamo ubriacare i tarantini con questa storia, con questa favola dei voli suborbitali. E lo stesso Di Palma di Enac, a vertice di Enac, dichiara il progetto, qui va avanti, prosegue il rapporto tra Italia e USA. E vedete, tornando allo spazioporto di Grottaglie, il progetto di prima infrastrutturazione sta andando avanti. Nel piano strategico 2023-2024 di aeroporti di Puglia, la società regionale che gestisce gli scali pugliesi, presentato lo scorso 27 luglio, si conferma l'investimento e si dice che lo sviluppo tecnologico dei voli suborbitali e aviolanci, quindi ci sarà anche il lancio di satelliti, vede lo spazioporto di Grottaglie, boom, quante favole si raccontano, vede lo spazioporto di Grottaglie come infrastruttura strategica per l'accesso autonomo allo spazio da parte del Paese Italia. Che dite, ridiamo? Non so se c'è da ridere o da piangere, non lo so. Certo è che la presa per il culo nei confronti dei Tarantini è enorme, cioè significa credere che i Tarantini non capiscono nulla, che i Tarantini credano alle favole, che i Tarantini credano a Babbo Natale e che si barattano i voli spaziali con quei normalissimi voli che noi vorremmo. In pratica si dice, Tarantini, sì è vero non ci sono i voli passeggeri per Milano, per Roma da Grottaglie, però pensate un po', avrete i voli nello spazio. Questa è una puttanata, è soltanto una puttanata, è una cosa teorica, certamente, che si potrebbe fare, ma in realtà ben diverse rispetto all'arlotta di Grottaglie. Stiamo parlando del New Mexico, non stiamo parlando dell'arlotta di Grottaglie, e allora smettiamola di raccontare favole, di raccontare puttanate ai cittadini, ai Tarantini, pur di calmarli. Ma voi pensate veramente? E poi chi potrebbe fare questi voli nello spazio? Sapete quante migliaia e migliaia di euro costerebbero? Pensate un po' una persona che dice, questo weekend, caro, cara, questo weekend me ne vado nello spazio? Non uno che dice me ne vado, non lo so, a Capri o a Ischia, me ne vado nello spazio. E chi potrebbe sostenere queste spese? I Rockefeller? E allora smettiamola per favore con queste puttanate dei voli suborbitali. Spazio 1999, la famosa serie di telefilm, è finita, è finita, ora che cosa facciamo? I voli suborbitali da Grottaglie, una nuova serie televisiva? Ma per favore, non dateci nulla, ci accontentiamo almeno di normali voli passeggeri da Grottaglie per Milano, per Roma, chiediamo il minimo. Ma sappiamo bene che Aeroporti di Puglia non ce lo concederà mai, non consentirà mai questi voli passeggeri dall'Arlotta di Grottaglie, perché se no ovviamente la pacchia per Bari e Brindi si finisce. Ora loro vivono in una situazione di duopolio in Puglia e quindi non vogliono certamente mollare perché perderebbero una fetta di clienti a favore di Taranto, a favore dell'Arlotta. E allora cosa si fa? Si ubriacano, ci fanno ubriacare i cittadini con queste puttanate, puttanate dei voli suborbitali, i voli nello spazio, dall'aeroporto di Grottaglie. Che dite, ridiamo o piangiamo?